Ciao a tutti e amici di Solfatara News. Prima di iniziare, come sempre, vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite ogni giorno con attenzione e partecipazione. La vostra presenza è fondamentale per continuare a raccontare quello che sta accadendo, senza filtri e senza censure, nell'area calderica dei Campi Flegrei. Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, Instagram e TikTok. Condividete questo video. È l'unico modo per aumentare la consapevolezza e far conoscere la reale situazione di un'area che sta letteralmente vivendo sopra una bomba ad orologeria. Oggi parliamo ancora una volta della zona più critica di tutta l'area flegrea, la Solfatara e la fumarola di Pisciarelli, epicentro del degassamento più attivo e instabile. I nostri droni, con riprese esclusive effettuate poche ore fa, mostrano una situazione anomala, quasi inquietante. Assenza totale di fumo da tutta l'area di Pisciarelli, dove fino a ieri si registrava una pressione visibile e costante. Chi ci segue da tempo sa che questo fenomeno non è nuovo. Anzi, è già accaduto più volte che l'assenza improvvisa di degassamento precedesse eventi sismici importanti, anche superiori al 4.0 di magnitudo. Quando il sistema idrotermale si zittisce, così, improvvisamente, non è mai un buon segno. È come se il vulcano stesse trattenendo il respiro, pronto a rilasciare energia. Ma ciò che rende questa situazione ancora più assurda e preoccupante è quello che sta succedendo proprio oggi e domani, 25 e 26 luglio, nella stessa zona. All'Ippodromo di Agnano, a poche centinaia di metri dalla caldera attiva, si terrà il megaconcerto del noto rapper napoletano Geolier, che attirerà oltre 60.000 persone a serata. Sì, avete capito bene. 120.000 persone in due giorni radunate nella zona più fragile e monitorata del territorio. E per permettere tutto questo, il Comune di Napoli ha addirittura chiuso tutte le strade circostanti, rendendo Agnano un'enorme area pedonale. Questo significa zero possibilità di evacuazione rapida in caso di emergenza. Sappiamo benissimo che non esiste nemmeno un piano di evacuazione aggiornato per la popolazione residente. Sicuriamoci per un assembramento improvviso di decine di migliaia di persone. Se dovesse accadere un evento sismico in queste 48 ore, come l'Ingv non esclude mai, visto il trend di aumento della sismicità e del degassamento, potremmo trovarci di fronte a una situazione ingestibile. Il rischio di panico generale, fughe disordinate e incidenti sarebbe altissimo. E non è finita. Per garantire lo svolgimento di questo evento, il Comune ha emanato un'ordinanza che impone la chiusura di tutte le attività commerciali della zona. Bar, ristoranti, supermercati, venditori di ricambi nautici, officine, showroom di auto, tutti obbligati a chiudere nei giorni in cui lavorano di più. Venerdì e sabato. Creando rabbia e danni economici in una zona già fragile. Un'intera economia locale paralizzata. Per un evento che, diciamolo chiaramente, poteva essere organizzato altrove, magari in una zona più sicura e con una viabilità che permetta una gestione dell'emergenza. Noi di Solfatara News non siamo contro l'arte, la musica e i concerti, tutt'altro. Crediamo che portino vita, energia, cultura. Ma siamo contro la disorganizzazione e la scarsa considerazione del rischio vulcanico che grava su quest'area. Non si può far finta di niente. Il vulcano non dorme e ogni giorno ce lo dimostrano i dati, i sensori, le immagini e le scosse. In questi giorni delicatissimi, il nostro compito è ancora più importante. Continueremo a monitorare con i nostri droni la Solfatara e Pisciarelli. Continueremo a farvi vedere ciò che nessun altro vi mostra. Ecco perché è fondamentale il vostro sostegno. Iscrivetevi, attivate la campanella, condividete questo video. Ogni follower in più è un cittadino più informato. Ogni condivisione è una voce che rompe il silenzio. Noi ci siamo, sempre, perché la trasparenza e la prevenzione devono venire prima di tutto. Grazie per essere con noi. Grazie. 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 Grazie.